Bella a tutti ragazzi da Sampo, tutti ragazzi qua su Minecraft Xbox One Ragazzi benvenuti in un altro video del mio canale sempre qui su Minecraft, sempre su Xbox One Ragazzi oggi andiamo a vedere, voglio fare una cosa che ho scoperto da poco Praticamente scartabellando un po' sulla wiki, guardate che bello però Comunque non spawnano mostri, questo è l'importante, questa lanterna mi piace Guardate ragazzi, basta torce al muro, guardate, adesso nelle stanze avrete la vostra lanterna che vi dà luce Quasi quasi ragazzi io qua toglierò tutte queste torce e metterò un sacco di lanterne Vabbè queste qua nel muro magari forse perché così poi vedete non fanno questo scherzo di... Restano fisse diciamo no? Ok Mi sono dimenticato anche di craftare Vi faccio vedere che hanno inserito anche un leggio Allora, leggio cosa sarebbe? Leggio Non ho ben capito, speriamo che sia... Ah boh Ah infatti volevo dire io come si fa Ok, le slab con quello E poi che ci metto? Un libro? Vabbè, mi prendo le slab e la bookshelf, la libreria E lo facciamo Oh, spero vivamente che la slab di Betulla va bene E infatti va benissimo Perfetto, andiamoci a mettere via subito Eh, le slab che non mi interessano E allora, perfetto Eh, sto leggio, dove caspita lo metto Buh Cioè, a cosa serve poi tra l'altro? Non ho ben capito, beh, per adesso lo piazzo qui dai Lo piazzo qui e... Eh, non ci facciamo niente Però, devo fare una cosa io Sperando che funzioni, eh Perché Sperando che funzioni Io vorrei, ragazzi Eh Ok Non c'ho neanche un libro vuoto Do che aspetti li ho messi Eh Però, dato che sono qua, ragazzi Ho visto che Se uno incanta con affinità con l'acqua Vedete, due anche riparazione Indistruttibilità Efficienza 4, vabbè, non c'è la 5 Però, efficienza 4 puoi portare la 5, vabbè Eh, mi hanno detto che se c'è affinità con l'acqua Attaccamento 3, non so cosa sia Però, se ci metto affinità con l'acqua Eccolo qua In teoria il piccone Dovrebbe scavare come Diciamo, per terra Dovrebbe scavare come se fosse Sott'acqua, come se fosse Sull'aria, cioè come se fosse sulla terra Eh, non lo posso fare Eh Allora, sperando che i livelli mi baci Io adesso mi prendo un altro piccone E Dovrei averlo Ne craftiamo uno E ci mettiamo affinità con l'acqua E una efficienza Però, diciamo, anche un'indistruttibilità ci starebbe Eh, sì, buongiorno Allora Questi sono due piccocci Indistruttibilità e efficienza 3 Buona Buona E se ci potessi mettere Affinità con l'acqua Perché non me lo fa mettere Ah, ma non devo farlo Sì Ma no, aspettate un attimo Non mi ricordo se va fatto Oh, caspita Ma no, qua Non va affatto qui, ragazzi Eh, sto Filerando come sempre Allora Te picconazzo Poi Eh no, questo è mio Questo è mio Tu puoi tornare qua Un sacco di diamanti, ragazzi Sono contento Qua si fa No Momento, eh Non mi ricordo No, nell'incudine si fa, ragazzi Sono sicuro Ma forse adesso si farà qua Vediamo Libri in casa No Momento, eh Forse non vuole avere nessun tipo di D'incantamento Ma non penso Va bene Io mi faccio Io mi faccio un piccone in diamante Allora, dovrebbero andarci tre diamanti Quindi ne prendiamo uno da qui Uno da qui Così siamo tutti a 44 Nessuno litiga, ragazzi Ogni angolo c'ha 44 diamanti Non so Sto a tenere il totale Perché non lo so Scherzo Eh, fa Boo Non ve lo dico Ve lo dirò Fra Cento puntate Ok Facciamoci Questo bel Picconcino E mo Finalmente Dobbiamo mettergli affinità Con l'acqua Allora Piccone E libro Non me lo fa fare Perché non me lo fai fare Maledetto Eh Ah ma forse 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 Dove metterlo al casco Vediamo Forse ha finita con l'acqua Va col casco Boo Proviamo a mettere Vediamo se me lo mette Nove Vabbè Ve lo so messo Non ho due livelli Speriamo di farcela Ok In teoria adesso io scavando sott'acqua Dovrei scavare come se fossi sulla terraferma Questo è il Però non so se andava messo sul casco O sul Corsaletto Comunque Io lo avrei messo sul piccone Di mio Eh scusate Ho fatto un leggero file Ma Ok Adesso andiamo sotto Ah caspita no Le pozioni Allora Eh Tiriamo via anche il piccone Che non mi serve Vabbè Ho buttato via Tre diamanti Alla fine Però ragazzi Che ve frega Tanto Ho riparazione Questo qua Ma Poi vabbè Scopriremo anche Cosa servirà Il Forse serve un libro Che attualmente Non so dove sono So che è un bel magazzino Però Trovare le robe Ogni tanto Eh vedete qua Non ci sono Non vedo libri Io Non vedo Libri Quindi Ah ma che furbo I libri sono qua Ragazzi Qui in parte Vero Eh sì Perché questa è la parte Del Eccoli qua Quindi proviamo a piazzarci un libro Sul leggio Bene Non fa niente Ok Libro Inutile Mo si è messo anche a piovere Sì Ne ho dei libri Allora ragazzi Io vado a dormire Poi Prendo le pozioni Wow Che bella la lanterna È soltanto di note Mo che Vabbè Non Come non detto Allora Pozioni Pozioni Perfetto Sapete che ne faccio Ne prendo tre Tre Però me ne tengo Solamente Una e una Alla volta Così Tac Così riesco a capire Ah Devo mettere via Anche le lanterne Le lanterne Le potrei mettere via Beh qua c'è i cancelli Dai sto caspita di cosa Qua non mi servono Cioè non mi servono Le posso spostare Tranquillamente più in qua E lì ci metto vicino Così abbiamo una logica un po' Ecco Tanto qua sono blocchi da costruzione Ci piazziamo questi Uno Due Tre E poi ci mettiamo quindi Le lanterne Le mettiamo lì Qua sotto Vicino Alle nostre amiche Torce Che ci hanno fatto luce Per tanti anni Ragazzi Ma adesso è venuta l'era Delle lanterne Yeah Ok Ce l'ho messo dentro quelle Sì Ok ragazzi Adesso pozione pozione Si va giù in mare E si inizia A esplorare le caverne Anzi io direi di farmi Un bel volo In mezzo al nulla Tipo No Di qua Che non vado mai di qua E andiamo in mezzo al mare Di là Esploriamo qualcosa Mi butto sott'acqua E Speriamo di scavare Come si scava bene Ok Io direi che qui va più che bene Allora Visione notturna Attiva Wow ragazzi E apnea E giù come se non ci fosse un domani Speriamo che I drone Allora fatemi provare a scavare Qua un blocco Sì 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 Dai Dai Diciamo che funziona Dai Cioè no In verità Non lo so Non penso Mi sembra che sta comunque troppo Cioè Forse sta No Non è vero Non è vero Bene bene ragazzi Scava da dio Ok Dobbiamo trovare delle Ecco qua Degli ingressi Per Da nessuna parte Dobbiamo cercare una grotta Sottomarina E beh Io navigo Tanto Abbiamo i nostri amici delfini Che ci rompono le scatole Dagli annegati Ok Cerchiamo caverne Alla fine Ragionamento acquatico Servirà qualcosa Pensate voi ragazzi Che prima non c'era un tubo Era tutta ghiaia O roba così insomma Senza vegetazione Senza niente Vabbè Ma è possibile Che quando cerco qualcosa Non c'è mai Vabbè Io navigo 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 Tanto avrò dopo centinaia di Che cos'è sta roba Ah Non ho mica ben capito Ah no Sono la visione notturna Sono le cose a destra Hanno cambiato le icone Scusate ragazzi Ma eccolo qua Un canyon sottomarino Ok ragazzi Andiamo giù Oh là Iniziamo a esplorare Le profondità oceaniche Facciamo come Jacques Cousteau Ragazzi Facciamo Guardate che bello Soprattutto con la night vision Merita eh Rende un sacco Uh oro Questo me lo prendo Però mi pare che Funziona solo scavando Dall'alto verso il basso Quindi Cioè penso eh Vabbè Io me lo prendo lo stesso Blocchi d'oro Sono blocchi d'oro Vabbè Contento il oro Forse ho sbagliato da metterlo Magari nei commenti Scrivetemi ragazzi Dove andava No ma sto scavando bene io Ah perché forse stavo nuotando Boh Forse devo stare Ma non so Non ci sto capendo niente ragazzi Comunque sì Ogni tanto scavo bene Ogni tanto scavo male Boh Eppure qua è acqua eh Vabbè Ecco se ogni tanto evitiamo le onde Ok però questo qua è solo un canyon Io volevo una grotta Una caverna Vabbè Adesso andiamo a cercarla ragazzi Andiamo a cercarla Prima che ci becchino Gli annegati Qua c'è un qualcosa Me lo sento Me lo sento No c'è un tubo Uh eccola qua Andiamo sotto di qua ragazzi Andiamo a scoprire qua cosa c'è in questo buco C'è un tubo C'è un tubo Io devo vedere che livello sono io Ok sono a livello 22 Però io mi devo tenere sempre Visione notturna e apnea pronte Perché se vanno via Ok sono a livello 22 E scendo ancora Ragazzi si trova dei diamanti E la scoperta del secolo Diamanti sott'acqua In una grotta che finisce qua Purtroppo Me ne torno indietro e ne cerchiamo un'altra Purtroppo eh Uh però qua sento rumore di lava Potremmo spaccare un po' di Magari sopra di me Chi lo sa No o sotto Sì 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 Era sotto Eh magari troviamo dei diamanti ragazzi Sempre Eh sì carbone Eh sì però se Eh no io volevo Dai dai Spacca qua tutto qua Fai andare più acqua qua Forza forza Ok No diamanti non ci stanno Però è una bella miniera Aia Ok fa niente Andiamo su ragazzi Adesso me ne Vado No no miniera Una bella esplorazione sottomarina Eh Io però vorrei Andarmene Ecco di qua Perfetto Ok me ne vado via ragazzi Cerchiamo un'altra Un'altra cosa Un'altra Grotta Ok perfetto Eh ho trovato un'altra caverna Speriamo che sia buona La Ok qua c'è un buco Ragazzi Eh scendiamo giù Siamo a livello 16 Dai che forse Riusciamo a trovare i diamanti Riusciamo mai a trovare i diamanti Sottacco Brutto Annegataccio Via qua E moco il tridente Anche Tiè Però c'è brutta Gente raccomandabile Ragazzi Poco raccomandabile Quindi io penso che Aumenterò le mie difese Potevo mettermi lo scudo Chissà se Se qui funziona Sì dovrebbe andare Dai Eh Sì va Oh lo scudo Me lo sono tenuto Nella mia shulker Ragazzi Ovviamente Non scappare Perfetto E adesso voglio vederti Io Eh là Ok Ce ne andiamo adesso in giro Ragazzi Sono molto più tranquillo Sono Full diamond Uh c'è la C'è questa roba brutta Qua che non mi piace Perché ti risucchia Il magma block Vi ricordo Che il magma block Vi risucchia Nella profondità Ok E quindi Vedo poi Vi uccide Boh Potete Fare una manovra evasiva Però Vi sconsiglio Se lo vedete Di girarci alla larga Ok Andiamo sotto Dai che troviamo Sti caspite Di diamanti No no Di nuovo Qua cosa non ci vado Allora andiamo Di qua Di qua Sembra salire Di qua Sembra invece Proseguire Ma salire Anche qua Leggermente Ma noi siamo Ottimisti ragazzi 22 Siamo a livello 22 22 22 22 22 Scende Scende E finisce Uh Lapislazzoli Questi me li piglio E questi vanno sempre bene Questi vanno sempre bene Quindi Sì ma si scava bene Dai alla fine ragazzi Sì è vero Dai Vedete Io scavo Come se fossi Forse se scavo in su No ma non è vero Scavo Non so perché all'inizio Mi faceva così Non lo so Comunque vado a farmi ancora un giretto E speriamo di trovare qualche diamantino Ok io di là non ci vado assolutamente Se non Se mi dicessero che ci sono i diamanti là sotto Ma potrei fare il giro No col cavolo che ci vado Preferisco Oh c'è un buco qua Di qua si sale Di qua niente No 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 Io continuo di qua Che mi pare che era Una strada buona Ecco vedete che scende Che strane queste aperture qua Forse no No forse l'ho fatta io prima No non penso No 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 Non le ho fatte io prima Neanche se volete Di qua si scende però Potrei ingannarli Magari bucando di qua Così li frego ragazzi No Eccolo lì Neanche ha detto Vabbè io li spacco Così Non risucchia proprio un bel niente Hola Ti e voi Magma block Ecco Magari questa qua Una specie di protezione naturale Ragazzi per andare Eccolo qua Vedete Forse l'hanno fatto apposta Perché Beh intanto ci prendiamo l'oro L'oro Perché cade C'è un annegato qua vicino Ma A me sinceramente Interessa ben poco Ok Prendiamoci l'oro Così non andiamo via Mani vuote ragazzi Eh si va Scende ancora 17 17 Vabbè Io continuo Esploriamo un po' Le caverne Guardate che bello Magari sarebbe bello Ragazzi Se facessero una Una pozione Anche in realtà Che potreste andare Sott'acqua E stare Che ne so Per un po' di tempo Senza Senza respirare Uh Qua si scende Ci sono i magma block Secondo me I magma block Servono a proteggere qualcosa Quindi io li spacco Perché adesso Non ho paura E vedete Tipo qua ci sono I lapislastoli Ma alla fine Però è comodo Perché adesso Li potete trovare anche qua Prima li trovavate Solo nel nether Adesso se vi sono I magma block Per qualche farm E volete avere Sapete Il sistema per ammazzare i mob Eccetera eccetera Potete andare Tranquillamente Anche Sott'acqua Ok Qua c'è dell'oro Ma vedete Ogni tanto sta un secondo Ogni tanto invece Non so Non riesco a capire Io sto Sto sistema Qua sta finita con l'acqua Se Se ce l'ho o no Eh Mo qua è pieno Di magma block E io li spacco E poi passiamo oltre Vedete Ok Non c'è un bel niente Ragazzi Comunque Diciamo che Questi qua sono le mie ultime Due Diciamo Pozioni Quindi me le tengo Magari per una prossima volta Eh Quindi ragazzi Diciamo che Può andare anche bene Come esplorazione Ragazzi Quindi Io vi saluto ragazzi Finisco qua Spero che questo video Eh Che caspita ci fa questa Oh Ah ma è d'acqua Quindi Chi se ne frega Eh Quindi ragazzi Io vi saluto Come sempre se questo video vi è piaciuto Mi piace Vorreste vedere del mining subacqueo Scrivetelo nei commenti ragazzi Come sempre Vi invito a mettere mi piace a questo video Ragazzi Scrivetevi anche se non è fatto E noi ci vediamo Come sempre nel prossimo video Ciao a tutti Scrivetevi anche se non è stato